dal 7 al 13 marzo torna la corsa dei due mari che quest'anno arriva la sua 57esima edizione stiamo parlando della Tirreno Adriatico con partenza da Lido di Camaiore in Toscana e con arrivo nelle Marche più precisamente a San Benedetto del Tronto i grandi campioni del ciclismo dunque passeranno anche per il nostro territorio nella giornata di sabato 12 marzo nel percorso a Pecchio Carpegna una grande vetrina per la nostra provincia dove verrà toccata in più punti grazie al lavoro svolto dal consigliere regionale Giacomo Rossi. Iniziativa a cui ho lavorato molto dobbiamo ringraziare in primis la regione Marche nelle figure del presidente Francesco Acquaroli e dell'assessore Guido Castelli che hanno concretizzato quest'idea nata nel territorio e tutti i comuni e le unioni montane che hanno compartecipato a questo evento nonché la provincia di Pesaro Urbino. Una parte da Pecchio arriva a Carpegna però passerà nella valle del Metauro fino a toccare i comuni di Fano e Pesaro per risarire poi ad Urbino ed arrivare a Carpegna. Un evento che avrà il collegamento di oltre 150 televisioni internazionali, una classica internazionale e una vetrina appunto per tutto il nostro territorio prima della stagione estiva. Vi aspettiamo tutti lungo il percorso della tappa per godervi questo spettacolo di sport e di socialità. Il tratto a Pecchio Carpegna avrà la lunghezza di 213 chilometri e sarà suddivisa in due parti. La prima ondulata quasi tutta a scendere verso la costa con una leggera risalita fino al primo passaggio sull'arrivo. La seconda costituita dal durissimo circuito finale da percorrere due volte ovvero quello del Cippo di Carpegna. Durante la giornata i ciclisti faranno anche una piccola toccata a Carrara di Fano. Siamo ben contenti di aver aderito alla manifestazione Tirino Adriatico che naturalmente negli anni è cresciuta tantissimo. Siamo alla 57esima edizione, 213 chilometri su una vallata straordinaria quindi abbiamo da raccontare delle tipicità di un territorio straordinaria e riguarderà anche Fano perché ci tocca sul perimetro di Carrara ma siamo ben pronti anche con il quartiere a festeggiarla al meglio, a riceverla tanto che ieri l'altro abbiamo proprio fatto un incontro presso il quartiere con il referente regionale Giacomo Rossi che si è occupato della manifestazione e diciamo che ci ha dato la possibilità di apprezzare un po' tutto il circuito, di essere coinvolti e di essere insomma anche nello spirito giusto perché il ciclismo resta comunque uno sport di alto valore, uno sport che un po' è la metafora della vita che ogni pedalata ci permette di arrivare alla vetta e auguro che alla vetta questa volta ci arrivino veramente in tanti.